ciao e benvenuti nell'ambito della nostra consulenza strategico direzionale parleremo oggi di segmentare la clientela le domande che ci facciamo sono le seguenti per chi crei valore quindi per chi la tua organizzazione crea valore chi è il tuo cliente più importante chi sono i clienti dei tuoi clienti e poi chi dipende da te per fare il suo lavoro sicuramente sarai d'accordo con me che i clienti sono il motivo più importante per cui esistono le imprese nell'ambito del nostro percorso di consulenza strategico direzionale il cliente e quindi la segmentazione della clientela è posto nel blocco del business model canvas che è questa tela a nove blocchi dedicata agli imprenditori nel blocco di destra quindi i clienti chi sono pensa naturalmente al cliente che ha la più alta marginalità e adesso facciamo delle considerazioni insieme sulla clientela intanto prima considerazione esistono diversi gruppi di clienti e per diversi gruppi di clienti devono esistere diverse proposte di valore ossia soluzioni attraverso prodotti e servizi della tua organizzazione specifiche per gruppi di clienti specifici questa è una cosa molto molto importante secondo un'impresa può avere clienti paganti e clienti non paganti e addirittura clienti che comportano un costo pensa ad esempio alla maggior parte degli utenti di google nessuno paga su google per i suoi servizi ma senza di loro google non avrebbe nulla da vendere agli inserzionisti pubblicitari quindi anche i clienti non paganti possono essere fondamentali per il successo di un modello di business terzo aspetto da considerare le imprese spesso guadagnano più da un certo gruppo di clienti rispetto ad altri questo è una considerazione che ti invito e ti invitiamo a fare nella compilazione del tuo business model canvas il modello strategico che aiuta gli imprenditori a definire la propria strategia e ti supporterà nelle scelte tattiche più importanti e più idone per la tua azienda bene se questi contenuti che abbiamo condiviso in questi pochi minuti con te sulla segmentazione della clientela sono stati utili condividili con i tuoi dipendenti con i tuoi collaboratori con i tuoi manager con i tuoi agenti con i tuoi stakeholder interni e se hai altre domande scrivi qui sotto o richiedi degli approfondimenti specifici per la tua organizzazione un saluto e al piacere di incontrarti da vicino ciao